Musica Ciao a tutti ragazzi, buoni questo nuovo video di KevinOzumaki50 E oggi andiamo a fare altre evocazioni in Dragon Ball Z Dokkan Battle Cominciamo Era da un po' che non portavo Dokkan e quindi ho deciso di riportarlo Non è uscito nessuna summon in particolare però Testeremo come dire, faremo altre summon visto che non lo portavo da un po' Comunque in descrizione troverete il link del mio scorso video Mi raccomando per chi non l'abbia visto lo vado a vedere che ho fatto le evocazioni su Gogeta Super Saiyan Il Gogeta più forte del gioco Allora andiamo subito sulle summon Praticamente allora se non sbaglio c'è ancora la summon di Gogeta ma io teoricamente non farò quella Comunque ho tipo circa 150 dragon stone quasi Lo faremo su Zanemba Dokkan Festival Che anche questo Zanemba non è niente male Comunque dai su cominciamo Speriamo di trovare qualcosa di buono Infatti circa 150 Infatti ne ho 144 Via Vediamo se troviamo qualcosa di buono In queste summon Sono uscite molte astronavi Speriamo in bene Ok Super Saiyan Dai uno Deve fare quello che penso io Si l'ha fatto Thank you Dragon Balls Meno male Questo è Cube SR Questo No niente Un SR pure lui però Questo Recom Ecco inutile Cooler Buono Questo è un cooler che non ho infatti Andiamo a mettere il suo filmato Perché già Già l'ho trovato Cooler E ho già messo il suo filmato In un video un po' vecchio Questo è Vegeta Già si vede Che fa la posa del Cannone Galic SR No Questo è Yamco SR Un altro Yamco Comitamente uguale all'altro Questo è No Quale cosa Un maggetto Come vuole farsi chiamare lui Come vuole farsi chiamare il suo filmato Goku Super Saiyan Bellissimo Questo è lì Goku Super Saiyan Come vuole farsi chiamare Come vuole farsi chiamare Ok Non è andata neanche Non tanto male Due SSR Sono buoni Character list Andiamo subito a vederli Ah poi per chi non lo sa Su Instagram Sulla seconda fila Andate a vedere C'è Goku di terzo livello L'avevo trovato in una summon a caso Nella biglietto di Janemba Infatti l'avevo pubblicato pure su Instagram Che l'avevo trovato Per chi non si è iscritto alla pagina di Instagram Mi raccomando lo faccia Questo è Goku Secondo i miei calcoli Non dovrebbe essere niente male Allora Blazing Battle Golden Warrior Saiyan Warrior Race Super Saiyan e Kamehameha Le link skills Come vedete sono molto importanti Poi avevo trovato Cooler Vediamo Se riesco a trovarlo Eccolo qua Lui c'ha Allora Ok Le link skills Mi sembra di avere un po' di queste link skills Con altri Quindi potrebbe Aumentarsi un pochino Comunque SSR Questo è l'importante Che poi porterò ovviamente All'ultra rari Come tutti gli altri Bene ragazzi Il video si conclude qui Sono stato fortunato Dai ho trovato Super Saiyan Goku Cooler Che però Non è l'altro mio cooler Che è l'altro che ho trovato E' tech Se non sbaglio Comunque ragazzi Sentite un bel pollice in su Se il video vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Attivate la campanella Le notifiche Così vi arriva la notifica Di ogni volta Che faccio un nuovo video E' Iscrivetevi pure Alla mia pagina Instagram E Facebook Per novità E ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao